Ciao a tutti, mi chiamo Franco e vengo dalla Sardegna. Ho perso i miei denti in causa malattia pariuntite, circa all'età di 43-44 anni. Io pensavo che quelli sotto mi lasciavano, invece no, mi hanno detto che erano tutti i miei malati, quindi ho tolto tutto e ho messo i perni, sotto e sopra e rifatto l'apparicchio, tutto a bocca completa. Io quando ho messo in definitivo i previsori sono rinati, era un'altra persona, era tranquillo, per me andavano bene anche quelli là, per me andavano bene anche quelli là, se può dire, perché io mi trovo benissimo. Un anno mi è passato con i denti previsori, per me è come se fosse quattro anni, perché voi stiamo usciti in giro, voi stiamo usciti dal mare, vedendo l'intervento di gente, sorridere, ridere, non prima invece, anche se dovevi ridere, non riuscivo a ridere, perché conoscevo anche i due, e prima dava fastidio, perché non avere i denti, il sorridere è importante anche verso tutte le persone, nel senso che prima avevo paura di sorridere, di aprire la bocca, perché si vedevano spazio, invece adesso vai tranquillo, è tutta un'altra cosa, anche nel mangiare, perché prima mangiavo, ma non schiacciavo niente, mangiavo solo le gengive, perché a volte l'apparecchio non neanche mai mettevo, perché mi dava fastidio, quando mangiavo andava qualche cosa sotto tra gengiva e apparecchio, ti faceva più dolore che altro, quindi mangiavo un po' più male, malissimo si mangiava, schiacciavo solo, vabbè c'avevo due o tre denti da una parte all'altra, un po' così, ma si mangiava malissimo. Grazie 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 Grazie